Alle regionali pugliesi non si candideranno, il leader sartori era stato chiarissimo, eppure le sardine con un tour sono arrivate anche al sud, a Lecce, meno selfie, più politica lo slogan, un solo microfono, circa 3-400 persone nel parco Bello Luogo sabato sera, tanti interventi, alcuni video come quello di Avubakar Assuma Oro o quello di Nichi Vendola, l'aria che tira è quella del guardare con favore un accordo tra 5 Stelle e PD nella casa comune del centro-sinistra, ma non emerge mai l'appoggio emiliano, il tema è visioni dal sud, un modo di guardare all'interno. Io vengo da Lazio, ho fatto tutto il tour con le sardine e siamo partiti da nord per arrivare ora a sud e risalire, le visioni da sud sono sicuramente fondamentali perché spesso è un luogo che è stato troppe volte messo marginalizzato o comunque non valorizzato per la bellezza che ha, e in questo io credo che siamo riusciti a fare una cosa meravigliosa perché di visioni ce ne sono state tantissime, sono intervenute tantissime persone che hanno dato il loro punto di vista, la loro visione della politica. La pandemia ci ha tolto il nostro elemento fondativo, cioè la fisicità, la partecipazione, i corpi che tornano a toccarsi gli occhi a confrontarsi, quindi fase diversa, stasera abbiamo sperimentato un modo diverso invece di fare politica, di ascoltare la politica e di farla confrontare con la società civile. Un movimento quello delle sardine che a Lecce sembra essersi radicato bene, almeno tra i giovani, e l'evento ne la conferma. Tanti simpatizzanti in città e a chi li accusa di essere un movimento contro qualcuno piuttosto che per qualcosa, loro rispondono così. Io ritengo che questa dimensione non sia mai stata reale, nel senso che è vero, si è stati contro un certo tipo di politica, ma più che altro noi siamo scesi nelle piazze e di questo sono fortemente convinta perché c'era proprio una sensazione di vacanza dal punto di vista della rappresentanza e allora più che essere contro forse siamo stati pungolo e forse qualcosa questo ha smosso, l'abbiamo visto con i risultati in Emilia Romagna, che non era così scontato.